Mi piace se diventi killer, e sai cos'è da dire, mi piace anzi mi esalta la personalità tua alfa Dici che ogni certezza ci uccide, che l'uomo vive attraverso le sfide Dici che sai che ti porterò i guai con la faccia da brava e il cuore per strada mi fai Stasera abbiamo l'onore e il piacere di intervistare l'ex consigliere Mario Fusco Su un tema molto importante e scottante, il suo passaggio all'area PD però nella fascia che fa riferimento a Matteo Renzi Come mai questa scelta? La scelta nasce sostanzialmente in continuità con quello che noi abbiamo sempre cercato e tentato di cantierare politicamente Cioè avviare un processo di rinnovamento in città e non solo E Matteo Renzi in quello che è il panorama italiano oggettivamente è colui il quale veramente può dare una sterzata Può avviare un processo di rinnovamento sia all'interno del PD e anche nel paese Quindi bisogna dare spazio, bisogna dare, come voglio dire, investire e credere nei giovani Matteo Renzi è un sindaco di una città importante d'Italia come Firenze ha 38 anni Una persona brillante, capace e quindi noi pensiamo che con lui si possa avviare un percorso assolutamente serio Quale sarà il suo atteggiamento nei confronti del PD cittadino? Diciamo aderirà a quello che è il ribaltone o l'argentese che si voglia Oppure continuerà ad avere un comportamento di opposizione? Allora io innanzitutto voglio cogliere l'occasione di avere voi Che in qualche modo ci date la possibilità anche di avere una divulgazione su questa iniziativa Noi abbiamo per il momento aderito alla fondazione Big Bang che fa capo appunto a Renzi In Campania è il responsabile, nonché fondatore, è l'avvocato marino con il quale è responsabile quindi di caserta dell'area Renzi Abbiamo fatto questo incontro, abbiamo suggellato questa intesa Avvieremo questo processo di costruzione di questa fondazione anche a Mondragone Perché crediamo fortemente che anche in città si possa avere un processo di rinnovamento Sia nella classe dirigente ma sia anche nella pratica politica Con il PD noi siamo assolutamente aperti, disponibili a dialogo, non c'è In politica ci deve essere la cultura del conflitto, del dissenso Noi crediamo in un progetto, diciamo così, di costruire un partito democratico aperto Che possa essere di tutti, dove tutti hanno diritto di cittadinanza Dove tutti avranno la possibilità di poter dissentire e articolare dialetticamente quelle che sono le proprie idee e i propri contributi Quindi siamo assolutamente, diciamo così, convinti e speranzosi che si possa avere un partito rigenerato da questo punto di vista Per quanto riguarda, diciamo, le collocazioni a livello istituzionale Noi l'abbiamo detto, saremo contro, il nostro consigliere di aria innanzitutto rimane consigliere di Oamo Mondragone Perché è stato eletto dagli elettori mondragonesi con quel raggruppamento Quindi noi manterremo fide a quello che è stato, diciamo così, la volontà degli elettori Gli elettori ci hanno detto che dobbiamo stare in minoranza, quindi all'opposizione E staremo in minoranza all'opposizione Faremo come abbiamo sempre fatto, come ho fatto io, adesso farà del prete L'anno prossimo sarà l'avvocato Federico a portare avanti un disegno che è quello di collaborazione Nel senso che, qualora le iniziative sono a vantaggio della comunità dei mondragonesi Noi non faremo mancare il nostro voto, ma sempre nel rispetto delle funzioni e di ruoli In gioci, in picci, ribaltoni, come dir si voglia, non ci appartengono La truffa all'elettore è un, diciamo così, uno smacco alla democrazia Nella città e anche nel paese Il suo consigliere a uno degli ultimi consigli comunali, se ricordo bene, proprio all'ultimo Diete un, diciamo, sensore di un atteggiamento di ribellione Nel senso che non andò via quando la minoranza stessa gli chiedeva un atto di coraggio di andare via Adesso, con lei che aderisce al PD di Renzi Il suo consigliere, che cosa farà? Quale sarà il suo atteggiamento adesso? Ma l'atteggiamento del consigliere, cioè del prete Sarà in linea e deve essere assolutamente in linea Sarà, e non un motivo, diciamo, di dubitare perché sono certo di questo fatto qua Con quello che è la nostra condotta politica Il nostro modo di far politica Ho cercato poc'anzi, diciamo così, di sintetizzare Cioè nel senso che al consigliere del prete bisogna che entri nei meccanismi istituzionali Entri nel dibattito istituzionale Perché una cosa è il dibattito politico e una cosa è il dibattito istituzionale Se io dico a De Rosa, così d'amblè, di alzarsi e di abbandonare il consiglio Nella prima seduta, nella prima assise Senza aver in qualche modo conciliato, come posso dire Deciso insieme In maniera, diventano oggettivamente una richiesta un poco troppo forte Per chi per la prima volta si presenta al cospetto della città E quindi in rappresentanza della città Sicuramente c'è il consigliere del prete In collaborazione con quello che è il lavoro delle minoranze Che non è, come posso dire, non sono opposizioni a prescindere Cioè la minoranza deve avere un ruolo di controllo ma anche propositivo La minoranza se c'è da votare positivamente un atto lo deve fare Alla stregua della minoranza, anche la maggioranza ha il dovere Ha il dovere, finora non è successo Di votare le proposte che provengono dalla minoranza Quindi non assumere quell'atteggiamento barricadero Per posizione presa Non è così che deve, diciamo così, svolgersi Quello che è il percorso istituzionale Le istituzioni sono una cosa seria L'inciuscio, tutte le questioni, le meschinerie politiche Diciamo così, di faziosità e di faziosismo Bisogna lasciarli fuori dall'aula consigliare L'aula consigliare è una cosa molto seria Lì si discute il destino di 27.000 cittadini mondragonese Diciamo che lei ha intenzione di spodestare Cennemi E diventare leader del PD a Mondragone Ma mi fa sorridere questa cosa perché Più volte, diciamo così, sui mezzi di comunicazione esce fuori sta storia Ma io con Cennemi, cioè io con Cennemi ho fatto Ho collaborato con Cennemi per più del mio percorso Per più anni del mio percorso politico Sono più di 15 anni Io ho collaborato in maniera leale, chiara, diciamo così Con Cennemi perché insieme stavamo, militavamo nello stesso partito Noi non abbiamo alcuna voglia, alcuna idea, alcuna intenzione di dare spallati Di spodestare la politica Questi sono vocaboli che, diciamo così Con la politica stanno come i cavoli a merenda La politica, la classe dirigente, le leadership Le stabiliscono le basi Le stabiliscono i congressi, le stabiliscono gli iscritti In base alla capacità di proposizione politica Non è un fatto di tessere di numeri o quant'altro Cioè quindi sinceramente con Achille c'è un ottimo rapporto Abbiamo delle divergenze proprio su come, diciamo così, gestire il partito Io sono per un partito che sarà il grande partito dei riformisti e dei progressisti Perché questo è il futuro del Partito Democratico Noi abbiamo scelto, e non l'ha fatto solo Mario Fusco L'ha fatto tutto il gruppo, diciamo così Dirigente di Io amo un dragone, non solo I simpatizzanti e quant'altro Perché riteniamo che il PD possa essere il contenitore, così come in America Di un partito, cioè di anime diverse Di anime riformiste, di anime progressiste Di anime più socialiste Di anime più, se volete, liberiste Liberali, un poco più conservatori Che poi all'interno di una dinamica Di una dialettica, diciamo politica Si confrontano e decidono le posizioni politiche Così deve essere anche un dragone Non è che di sentire rispetto al fatto che si sia fatto un accordo, diciamo un capesso per quanto mi riguarda, diciamo così In città si possa essere poi non riconosciuti o in qualche modo accompagnati all'uscita alla porta Io penso che questo non sia utile, non sia corretto Né al partito, tantomeno al centro-sinistra Adesso in provincia chi sarà il suo punto di riferimento, il suo leader? Ma io ho avuto il piacere qualche giorno fa Di incontrare, avere appunto L'incontro per suggellare questa intesa Questo nuovo percorso, questo cammino Con l'avvocato Marino L'avvocato Marino è l'ex candidato a sindaco Per il centro-sinistra Una persona assolutamente di livello, insomma di profilo Una persona per bene già si vede E quindi io sono molto contento di aver fatto la sua conoscenza E sono sicuro che avremo, diciamo così, un lungo percorso di collaborazione E adesso voglio chiederle un voto ad ogni componente della Giunta Iniziamo con, per come sta operando fino adesso Iniziamo proprio con il sindaco Beh, il sindaco Con il sindaco Tu hai seguito, diciamo così, in pochi lavori consigliari Sono stato sempre molto disponibile, molto collaborativo Ho votato molti atti, diciamo, che ha proposto alla maggioranza Gli direi di essere un poco più aperto in una dinamica istituzionale Cercare di capire che il Consiglio Comunale è il luogo dei cittadini Dove si celebra la democrazia e si decelebrano, diciamo, le scelte e il destino della comunità Assumere atteggiamenti troppo, diciamo così, di parte Io penso che non serva Non serva egli stesso per la sua carriera politica E soprattutto non serva alla città Quando gli diamo? Quanto gli diamo fino adesso? Ma io al momento sto ancora aspettando dei risultati, diciamo così, oggettivamente valutabili Allo stato attuale, tranne qualche cosina Diciamo Della quale non si può, non riconosce Per esempio quando riguarda la lotta all'evasione e l'elusione fiscale Quindi assolutamente un'iniziativa, diciamo, da valutare positivamente Perché ogni persona che ha a cuore quella che è l'istituzione cittadina Cioè quindi il comune, il municipio e la gestione Deve necessariamente considerare che il recupero dell'evasione e dell'elusione è uno degli atti fondamentali Quindi gli va dato atto di aver in qualche modo attivato questo percorso Sinceramente tutti ci aspetteremmo qualcosa in più Perché è stato annunciato che sarebbero state anche perseguite coloro i quali non hanno mai pagato Assolutamente alcun centesimo Cioè quindi che non risultano neanche censiti Cioè parliamo di evasori totali, completi Allo stato attuale non mi sembra che ci siano forti iniziative Tranne qualche annuncio Gli annunci sono il forte del sindaco Cioè il sindaco è bravo, diciamo così, ad annunciare iniziative e quant'altro Però poi dopo, diciamo, tutti i percorsi si sfumano un po' col tempo Io il suggerimento che gli darei è quello di stare un po' sul tema Di battere un po' di più il chiodo E di arrivare anche alla soluzione finale dei problemi Allo stato attuale, diciamo così Sinceramente il tutto lascia un po' a desiderare Voto? Il voto è quello di... Un numero? Io gli do assolutamente, non gli do ancora la sufficienza Ma non per un fatto... Perché semplicemente siamo un anno e più di attività di sindacatura Quindi bisogna dargli anche un altro po' di tempo Con una maggioranza spuria Una maggioranza assolutamente io la definisco abusiva Perché è una maggioranza abusiva Però comunque voglio dire Bisogna aspettare e dargli tempo per cercare di capire Se riuscirà a portare un valore aggiunto alla città Valerio Bertolino? Ma Valerio Bertolino Io capisco le difficoltà finanziarie dell'ente Quindi l'indisponibilità di risorse Mi aspetterei un po' più di vivacità Però assolutamente diciamo Non possono elementi, ripeto, per poter dire Per poter dare, fare una valutazione oggettiva Sufficiente o insufficiente? Ma non voglio entrare nella sufficienza e nell'insufficienza Diciamo che ci aspettiamo qualche accelerazione rispetto a... Non classificato si direbbe a scuola Non voglio esprimere giudizi, diciamo così, assolutamente Stiamo, come me, io penso, la comunità sta in attesa Noi stiamo in attesa di capire se succede qualcosa di importante Allo stato attuale, ripeto, parliamo di annunci Anna Barbato? Anna Barbato si è insediata da poco È una donna assolutamente, diciamo, molto dinamica Molto forte, diciamo, come carattere Nel senso che ha voglia di fare Io penso che però dovrebbe cimentarsi un po' di più Perché il governo per la città non è una cosa molto semplice Bisogna capire le dinamiche Bisogna capire in maniera approfondita i problemi E cercare di trovare le soluzioni Quelle là che si possono realizzare Che si possono offrire E quindi, ecco, anche ad Anna suggerirei Un maggior lavoro, diciamo, anche di analisi, di valutazioni Più che di, diciamo, di rappresentanza Corvino Valerio Corvino Meno presenzialismo, chiudo con la Barbato Meno presenzialismo è più un lavoro, diciamo così, di approfondimento Valerio Corvino Anna Barbato il voto Ma Anna Barbato, su, Anna Barbato Perché, come si può dare un voto da Anna Barbato Se è insediata da qualche mese Mi sembra, diciamo, ingeneroso dare un voto Ma non perché voglia essere, diciamo, pilatesco in questa cosa Aspettiamo Io, che è stato presente in Consiglio Comunale Ho avuto un modo, diciamo così, di Soprattutto sulla vicenda dei migranti Di dare Ci ritorno su questa cosa Perché voi siete stati assolutamente, diciamo, molto attenti Attivi Per cercare di capire, di analizzare Di dare delle informazioni su questo fenomeno Aspetto questa L'altro pezzo della task force Cioè, la task force era Diciamo, si muoveva su due gambe Una di carattere, diciamo, legate ai controlli Cioè, quindi, controlli di polizia Un maggiore monitoraggio Da questo punto di vista L'altro, più da un punto di vista sociale E umanitario Cioè, quindi Commediazione, commediazione culturale Cioè, contatti Per cercare di analizzare Anche un po' il bisogno Cercare di conoscere questo mondo Allo stato attuale ho visto Soltanto, diciamo così Una buona presenza di vigili urbane Valerio Corvino Valerio Corvino Stessa cosa Della Barbato Aspettiamo ancora qualche tempo Quindi senza voto anche lui Senza voto Perché si è insediato pure lui da poco Insomma Benedetto Zoccola Diciamo che questo è un voto molto importante Perché lei è stato un assessore Anche lei all'ambiente Quindi può giudicarlo Qui ci vuole il voto Allora Benedetto Io ritrovo È un ragazzo assolutamente coraggioso È un ragazzo assolutamente volitivo Che ha delle buone Diciamo così Possibilità Per poter dare Un grosso contributo Al settore Lo trovo Trovo Che si sia messo Diciamo così Nel sulco In qualche modo Che io avevo tracciato Proprio nell'approccio Nel modus proprio operandi Rispetto a come deve essere Un assessore All'ambiente Ai rifiuti Dinamico Cioè Poco da scrivania Poco attento È molto diciamo Operativo Ecco Molto più Da strada Ecco Un assessore Io così lo definisco Anche qui Io Suggerirei all'amico Benedetto Che tra l'altro È anche un simbatizzante Cioè È uno È un sostenitore Dell'area Renzi Quindi Sono molto più Anche se volete Di parte Nell'esprimo giudizio In qualche modo Anche positivo Nel senso di incoraggiamento Di essere un poco Più attento A far sì Che il servizio Possa funzionare E tralasciare un po' Altri aspetti Che non competono Proprio all'amministratore E al politico L'amministratore e il politico Devono dare risposte Ai cittadini E ai problemi dei cittadini Tutto ciò Che non rientra In questa sfera Di competenze La lasciamo Agli autori Da preposto Io questo dico Concentrarsi E fare La dovuta Attenzione Affinché venga rispettato Il capitolato E funzioni Il servizio In questo caso Quindi nel caso Della gestione Dei rifiuti A Benedetto Io Veramente Con grande vicinanza Consiglio Di far sì Che quel progetto Della raccolta differenziata Possa essere Implementato Fortemente Ad onore del vero E certamente Non è Diciamo Responsabilità Di Benedetto Che anch'io Insomma È fresco Di incarico Abbiamo avuto Qualche parabola Discendente Cioè Io ho visto Che Quell'attenzione Che c'era Diciamo così E che c'è nella comunità Perché i cittadini Continuano ancora A selezionare I rifiuti La stessa attenzione Non c'è Nella raccolta In termini differenziati Ho visto Delle scene Che sicuramente Non mi fanno Diciamo Ben sperare Mi auguro Che però Il tutto Possa ritornare Sui giusti blocchi E quindi mettere Diciamo così Il treno Il percorso Sui giusti binari Voto Ma il voto Anche qui Aspettiamolo Aspettiamo un poco A Benedetto Perché anche A differenza Guardate Il settore Dei rifiuti Dell'ambiente È uno dei settori Difficili Se io volessi Accurarti qualcosa Di male Dico Possa tu Un giorno Essere Diventare Assessore All'ambiente Penso che possiamo Concludere Quest'intervista E vi facciamo Come Campagna Felix Caserta C'è Un in bocca al lupo Per questa nuova scelta Grazie E l'ultimo Voglio fare io Un invito A tutti coloro I quali credono Che si possa avere Un Bing Bang Nella città Cioè L'inizio Di nuovo percorso Di una politica Fatta col sorriso Di una politica Fatta con progettualità Semplici Per dare soluzione Diciamo Se ai nostri problemi Con l'aiuto Della comunità E quindi In qualche modo Vicini A Matteo Renzi Noi siamo assolutamente Disponibili Aperti A favorire Ogni intradura Ogni ingresso Quindi ecco Chiunque Si sente vicino A Renzi Rispetto a questa sua Voglia di rottamare La parola purtroppo Di rottamare Ma sì Siamo a Mondragone Quel modo Diciamo così Pessimista Di affrontare Quello che sono Le solute La nostra città Noi siamo aperti E disponibili Ad accogliere Per avviare Un percorso Di dialettica Di confronto Per cercare soluzioni Insieme